2020 in un episodio di chi l'ha visto si era parlato di una ragazza scomparsa da torino yudelka advincola pinales detta anche cole la cui famiglia preoccupata aveva contattato il programma denunciando la sua sparizione quello che potete vedere è infatti il post ufficiale di twitter del programma scomparsa sì fino a qualche tempo fa durante una live su twitch lo streamer omiatoll stava visionando un video dal canale amico di ale della giusta che trattava di esplorazione urbana all'interno di un edificio che ospitava in passato manicomio una volta sul posto però ale insieme al suo accompagnatore si sono resi conto della presenza di persone nel luogo tra queste vi era proprio cole riconosciuta da un utente in chat durante la live confrontando le foto omiatoll ha avvisato l'autore del video e le forze dell'ordine che sono intervenuti nella vicenda non ci è dato sapere di come questa faccenda si concluderà sia per questione di privacy che per via dalle indagini possiamo però avere la certezza del suo stato di salute grazie soprattutto al pubblico di twitch grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.